Colavito, sesta sconfitta nelle ultime sette gare, eppure direi che oggi si era messa bene con il gol in apertura di Leonetti, poi quella rete di Castellana all'inizio del secondo tempo ha fatto cambiare volto a questa partita. Hai detto bene, i ragazzi si sono sciolti dopo il gol subito, ma potrebbe essere, non dico normale, però in quest'ultimo periodo sta pesando il fatto di portare a casa i punti, e noi sappiamo quanto è importante per tutte le squadre la vittoria che ti alza la stima, ti fa lavorare bene durante la settimana, quindi forse è questo il lato che è più importante. Una sconfitta pesante a livello morale, ma anche di classifica perché non siete più terzi. Guarda, io la classifica non l'ho mai, credimi, ma veramente, io non l'ho mai guardata. Da quando dall'altra parte si parla di tre punti, di play-off, di secondo posto, terzo posto, quarto posto, stiamo inconsciamente, può darsi che stiamo un po' lasciando per casa alcune certezze. Il colloquio tra i tifosi e i giocatori al 91esimo, tifosi che sono giustamente delusi da questo girone di ritorno della squadra? I tifosi hanno sempre ragione, però io i giocatori li vedo durante la settimana e so quanto ci tengono per regalare soddisfazioni a loro, che fanno i chilometri per vedere una squadra che lotta. Anche oggi hanno lottato, soltanto, vi ripeto, le vittorie alzano la stima, i ragazzi giovani credono nel lavoro, credono in ciò che fanno e ora la vittoria non sta venendo e quindi può essere anche una logica conseguenza quello che si è visto dopo il primo gol del Monticelli. Quando riacquisteremo i tre punti e un minimo di solidità difensiva, allora ci potremo divertire di nuovo. La svolta del match, c'è stato al secondo minuto della ripresa perché il gol del pareggio ha cambiato letteralmente la partita perché la vastesa è crollata anche psicologicamente. Ma diciamo che noi la vastesa viviamo di condizioni psicologiche molto labili, noi è un po' tutto il campionato che stiamo aspettando quel quid che forse è arrivato oggi in quel gol di cui parli tu, che ci desse quella forza, quella carica, quel credere in noi stessi. La vastesa al contrario oggi è stata un po' come il Monticelli del passato, cioè che quindi ha risentito di quel gol e un pochettino probabilmente si è buttata giù. Però, ripeto, al di là dell'affetto che provo da ex giocatore della vastesa, dico che oggi è stato un grande Monticelli. Al di là della vastesa capisco che è un periodo particolare per loro, però credo che oggi il Monticelli ha meritato di vincere, non è stata la vastesa che ha meritato.